Ciao ragazzi, bentornati di nuovo su Zero G. Allora, oggi vi voglio parlare del calore latente. Mi raccomando, un concetto molto importante che ha a che fare con i passaggi di stato, quindi siamo nell'ambito della termodinamica. Ci vediamo tra due secondi. Eccoci di nuovo tornati dopo il volo del nostro astronautino che ci piace sempre un casino. Allora, oggi parliamo quindi del calore latente, quindi argomento grande termodinamica, stiamo parlando di calore, stiamo parlando di temperatura, e più che di calore stiamo parlando di energia termica, perché questo termine di calore fa un po' schifo, poi magari un giorno vi farò magari un bel video per raccontarvi perché la parola calore in fisica fa un po' ribrezzo, ok? È molto più bello parlare di energia termica, ma insomma ci torniamo. Allora, io partirei da qua, ok? Provo a prenderla un po' larga. Allora, ve la ricordate lei? Dai, penso di sì, perché se siete alla ricerca di informazioni sul calore latente è perché mi aspetto che questa roba inia qui, che vi ho scritto adesso, l'abbiate già vista. Allora, brevemente, che cavolo è sta cosa? Allora, questa legge, questa formuletta, vi permette di calcolare la Q, che sarebbe quindi il calore assorbito oppure ceduto da un corpo che ha una certa massa, che ha un certo calore specifico e che quindi, per via del fatto che ha ceduto energia oppure ha assorbito energia da altri corpi, ha subito, diciamo, una variazione di temperatura, che nel caso in cui l'energia la assorbi significa aumentare la tua temperatura, nel momento in cui invece l'energia la cedi vuol dire che la temperatura diminuisce, ok? Quindi questa variazione di temperatura potrebbe essere tanto negativa quando aumenta, ho sbagliato, tanto positiva quando la temperatura aumenta, tanto negativa invece quando la temperatura va a diminuire, ok? Quindi questa era, diciamo, un po' la situazione normale, no? Un oggetto assorbe o, diciamo, cede calore, quindi assorbe energia termica oppure cede energia termica e quindi di conseguenza varia la sua temperatura. Ora, però, postilla, nel momento in cui avete affrontato i passaggi di stato, quindi, che ne so io, per esempio, un cubetto di ghiaccio che fonde e quindi diventa acqua liquida, piuttosto che l'acqua liquida che evapora, piuttosto che il ghiaccio secco, se ce l'avete presente, che invece è un esempio di sublimazione, quindi di passaggio diretto dal solido al gassoso, ok? Perché vedete praticamente questi cubetti di... sarebbe un'idride carbonica praticamente, no? Cos'era? Non mi ricordo più esattamente, forse sì è un'idride carbonica... no, non mi ricordo più, non voglio dire stupidaggini, ma comunque è un gas solidificato che a temperatura ambiente di solito fa proprio il fumo, no? Che esce direttamente così. Quello è un altro passaggio di stato. Allora, perché vi sto portando sui passaggi di stato? Perché il concetto lì era che durante tutto il passaggio di stato la temperatura non cambia, cioè la variazione di temperatura è zero, ok? Quindi la temperatura iniziale, la temperatura finale è uguale. Dunque, cosa però succede durante il passaggio di stato? Beh, però, durante un passaggio di stato comunque la sostanza, il corpo che avete tra le mani, sta cedendo energia termica oppure sta assorbendo energia termica, perché altrimenti il passaggio di stato non avverrebbe. Mi spiego. Se voi prendete un cubetto di ghiaccio, ok? Quindi acqua allo stato solido. E la mettete a temperatura ambiente, che cosa succede? Succede che il cubetto di ghiaccio progressivamente nel tempo assorbe calore, quindi assorbe energia termica dall'ambiente e la temperatura tende a salire. Nel momento in cui voi avete tirato fuori, per esempio, il cubetto di ghiaccio dalla ghiacciaia, nel freezer, dove la temperatura è meno 10, non lo so quanto sia, insomma, è sotto lo zero, ok? Quindi il ghiaccio tende un po' a scaldarsi, rimane comunque ghiaccio fino a quando la sua temperatura non raggiunge gli zero gradi, ok? Solido era, solido è rimasto. Volete calcolare quanto calore ha assorbito il cubetto di ghiaccio? Nel passare facciamo finta da meno 10 gradi fino a zero, lei. Massa del cubetto di ghiaccio, calore specifico del ghiaccio, variazione di temperatura da meno 10 fino a zero, ti fai il calcoletto, ti esce quanti joule di energia il cubetto di ghiaccio ha dovuto assorbire per passare da meno 10 a zero. Poi però, che cosa succede una volta che il cubetto di ghiaccio ha raggiunto le zero gradi Celsius, in quel momento lì si avvia il passaggio di stato per cui il cubetto di ghiaccio comincia a fondere, cioè comincia a trasformarsi in acqua liquida. Ma perché si trasforma in acqua liquida? Perché il cubetto di ghiaccio sta continuando ad assorbire joule, continua ad assorbire joule, continua ad assorbire joule, cioè continua ad assorbire energia dell'ambiente circostante. Però quell'energia non va ad incrementare la temperatura del cubetto di ghiaccio, che si è rimasta fissa a zero gradi e continua a rimanere a zero gradi durante tutto il processo di fusione. Quell'energia che il cubetto di ghiaccio sta assorbendo, il cubetto di ghiaccio la sta usando per far avvenire il processo di stato, cioè per fare quel cambiamento a livello, diciamo, di legami chimici tra le varie molecole che fanno sì che l'acqua passi dallo stato solido allo stato liquido, ok? Quell'energia serve a quello e la temperatura rimane costante. Allora voi capite che io questa legge, nel caso di un passaggio di stato, non la posso più usare, perché non ha senso. Perché come fai a calcolare quanto calore sta assorbendo il cubetto di ghiaccio mentre si scioglie, quindi mentre fonde? Se qui la temperatura, la variazione di temperatura è zero perché la temperatura è rimasta costante. Cioè se io qua ti metto e ti dico, ma la variazione di temperatura è zero durante il passaggio di stato, no? E ti metto lo zero qui, poi ti faccio il conto e ti dico che il calore assorbito è zero? E no. Capito? Allora, nel caso di un passaggio di stato questa legge fuori tema, completamente fuori tema, cioè non la puoi usare. Allora questa formulina tu la usi solo se hai una sostanza che si scalda o si raffredda, quindi assorbe o cede energia termica, ok? Scambia energia con qualcos'altro, ma mantiene il proprio stato. Quindi l'acqua liquida che si scalda e continua a rimanere liquida, non so io, un pezzo di metallo che è solido lo scaldi ma comunque ancora solido, quindi non lo porti fino a fusione, ok? Allora questa benissimo, ma nel momento in cui hai il passaggio di stato questa legge fallisce, non è più lei che ti permette di calcolare il calore che quella sostanza sta assorbendo o sta cedendo, e allora devi passare a lei, che come vedete è una formula analoga perché è di nuovo tipo calore uguale. Dall'altra parte avete m di massa, quindi la massa del corpo in questione, per esempio il cubetto di ghiaccio che sta fondendo, quella sarebbe la massa del cubetto di ghiaccio, e poi c'è questa L maiuscola, forse a volte si usa anche un'altra lettera, si potrebbe usare lambda probabilmente, ok? Non lo so, sto andando un po' a memoria, mi è venuto in mente ora, va beh insomma, lo sapete un po' in fisica, ogni tanto si cambiano le lettere ma si intende la stessa cosa, dipende un po' dalla letteratura, dall'autore, dal docente, a che cosa abituato ad usare, che vi devo dire. Io sono sempre stato abituato ad usare la L, che mi sembra la cosa più facile, anche perché la L che cos'è, e ve lo dico ora, è il calore latente, L latente. È vero che se usi lambda, lambda sarebbe la lettera L dell'alfabeto greco, no? Alla fine, siamo sempre lì, però e dai, allora, ok, cioè io userei la L che mi piace. Allora, quindi il calore che un oggetto, una sostanza diciamo, è in grado di assorbire o di cedere durante un passaggio di stato, ripeto, durante un passaggio di stato, è uguale a M per, quindi la massa, per la L che sarebbe il calore latente, ok? Quindi qui, come vedete, abbiamo proprio cambiato formula. Cos'è un po' il calore latente? Ti dice praticamente, cioè diciamo, è un coefficiente che va a moltiplicare la massa e che ti permette quindi di calcolare quanto calore hai in relazione anche alla massa un po' del corpo. Il calore latente quindi dipende, un po' come il calore specifico, dipende dal tipo di materiale che hai, quindi se hai il ghiaccio è una roba, se hai l'acqua liquida è un'altra roba, se hai l'olio è una questione diversa, se hai l'acciaio è una questione ancora diversa, quindi non ti può imparare un numero fisso per il calore latente, no? Questa è di nuovo la classica cosa che ti ritrovi in fisica, che dipende dai materiali e quindi se guardi i libri di testo troverai sempre le tabelle con un elenco di un certo numero di materiali e a fianco tutti i valori del calore latente corrispondente, no? Col calore specifico, se ci avete presente, però è la stessa cosa, no? Alla fine della fiera, cioè quella C che compariva qua dentro, siamo lì come concetto più o meno, è proprio un po' la stessa cosa. La cosa aggiuntiva è però, per esempio, che se tu prendi di riferimento l'acqua, c'è un calore latente diverso a seconda del tipo di passaggio di stato che stai considerando, quindi per esempio se tu hai l'acqua solida che si sta trasformando in acqua liquida, quindi il ghiaccio che si sta sciogliendo sta diventando acqua liquida, ok? In quel passaggio di stato che si chiama fusione hai un calore latente di fusione che vale un certo numero e te lo vai a prendere dalle tabelle varie. Forse ve l'ho scritto qua, no, ve l'ho scritto, vabbè, dopo guardo, ok? Se però sempre nell'ambito dell'acqua tu fai un altro passaggio di stato che è l'ebollizione, quindi porti l'acqua a 100 gradi, ok? Quindi stai facendo un passaggio di stato da l'acqua liquida all'acqua allo stato di gas, temperatura costante 100 gradi, allora è vero che è sempre acqua, però siccome il passaggio di stato è diverso, allora è cambiato anche il valore del calore latente. Quindi il calore latente di fusione è un certo numero, il calore latente di evaporazione è un altro numero diverso, sebbene stiamo parlando della stessa sostanza. Quindi per completare un po' il quadro e cercare di riassumere, da che cosa dipende il calore latente? Dalla sostanza, ma anche dal tipo di passaggio di stato che stai considerando, ok? Quello che invece è interessante è che il passaggio di stato che tu fai all'andata e al ritorno ha il medesimo calore latente, tipo se tu prendi il ghiaccio solido e lo fondi e quindi passi da solido a liquido, ok? Quel passaggio di stato si chiama fusione, benissimo, usi il calore latente di fusione, ok? Ghiaccio che fonda a 0 gradi, ma se tu prendi l'acqua liquida, la metti nella vaschetta, quella del freezer, no? Divisa cubetti, ok? Per farla diventare ghiaccio, nel momento in cui l'acqua liquida arriva, scende a 0 gradi, quindi si raffredda fino a 0 gradi e comincia a ghiacciare, quindi tu stai facendo il passaggio inverso, ok? Quindi da liquido a solido, che si chiama quindi solidificazione, comunque usi il calore latente di fusione, ok? È lo stesso numero proprio, quindi se tu fai da solido a liquido oppure da liquido a solido con la stessa sostanza, quindi fai l'andata e il ritorno, diciamo, in entrambi i casi, per fortuna, usi lo stesso calore latente, ok? Quindi non c'è un calore latente ad andare e poi un numero diverso a tornare, per fortuna usi lo stesso, però se ti sposti proprio da uno stato a un altro, quindi da liquido a gassoso, boh, sei da un'altra parte un altro valore completamente diverso, cioè lì devi proprio cambiare, ok? Allora, mi pare che ve l'ho scritto, adesso cito, eccolo qua, vedi che l'ho scritto? Allora, calore latente di fusione del ghiaccio, per esempio, è un numero tipico, io ve l'ho scritto perché di solito è un numero che torna molto spesso, se volete prendere nota, ok? È solo un esempio, però alla fine quando avete, come si dice, gli esercizi, no? È molto facile lavorare sempre con gli esercizi che girano attorno all'acqua, no? Perché l'acqua, dai, è una delle cose più facili che ti possono capitare tra le mani, no? Cosa ti devi inventare? Che devi fare la glicerina con, che ne so io, lo zucchero di canna della Thailandia messo dentro? Ma ti prego, ma prendi l'acqua, no? La cosa più stupida che ti viene in mente, giusto? La cosa più semplice. Allora, mi è venuto in mente, così, diciamo, di provare a scrivervi, per esempio, il calore latente di fusione, no? Visto che ne stavamo parlando, il calore latente di diffusione dell'acqua è questa roba qui. Quindi questo, ecco, questo è il numero che io userei quando, quando mi chiedono di calcolare quanto calore mi serve per far sciogliere un cubetto di ghiaccio, oppure userei lo stesso numero per capire quanto calore devo sottrarre all'acqua liquida per farla ghiacciare. Capito com'è? Cioè, io andrei comunque a prendermi questo numero qua, ok? Mi raccomando, 10 alla quinta. Ecco, le unità di misura sono queste, come vedete, ve l'ho scritto nell'esercizio, cioè, scusate, nel valore pratico, che sono joule fratto chilogrammi, e in effetti è proprio l'unità di misura che vi ho scritto qua in maniera più chiara, quindi questa è l'unità di misura del calore latente, joule fratto chilogrammi, che si vede anche dalla formula, ve lo posso dire, perché alla fine se tu qua metti joule fratto chilogrammi, poi moltiplichi per dei chilogrammi, i chilogrammi van via, ti rimangono joule, che è esattamente l'unità di misura che ti aspetti per il calore, perché il calore lo chiami con questo termine un po' bruttino in fisica, che va bene per l'italiano corrente, ma in fisica, bah, ci piace poco, ok? Pazienza, però se questa invece la chiami in maniera più tecnica, energia termica, come si misura l'energia? Joule. E ma vedi che torna, ok? Ma vedi che torna? Va bene? Quindi mi raccomando, il calore latente è un po' così, naviga così, però attenzione, quindi quando è che usa il calore latente? Quando si sta parlando di passaggi di stato, dove la temperatura rimane costante e dove questa formula non ha senso, non la puoi usare, che cavolo usi questa roba qua se la temperatura rimane fissa? Non ci stai dentro, ok? Fai lo switch su quest'altra, ok? Mi spiace sempre per queste cose dove compaiono sempre questi coefficienti che dipendono dai materiali, perché sono più belle le costanti, no? In fisica, che tu dici, vabbè, senti, guarda, quella è una costante. Se c'è una cosa sicura, che mi imparo il numero, ogni volta che vedo quella lettera il numero è fisso e... ciao, no? Che vi devo dire? Purtroppo è così. Mi aspetto che negli esercizi però comunque i calori latenti vi vengono dati, cioè che nessuno vi chieda di imparare calore latente a memoria. Oppure, visto che il calore latente non è una costante, allora ha senso in un esercizio che la domanda sia proprio sul calore latente, cioè calcolamelo tu. Ti dico io quanto è la Q, ti dico io quanto è la M, trovami tu la L, ok? Visto che tanto non la sai, perché i valori cambiano sempre, ci sta che allora uno te lo chieda, no? Ok? Nessuno ti chiederà mai di calcolare una costante della fisica, cioè la costante, la so, cosa me la chiedi a fare te? Bello, ti scrivo il numero, la sua memoria, cioè che domanda è? Quando invece ci sono queste grandezze variabili sì che ha senso la domanda, va bene? Bon, dai, mi sembra di avervi detto veramente tutto a proposito del calore latente. Grazie per avermi seguito e l'appuntamento è sempre qui su Zero G per i prossimi video di fisica, da qui a quando avremo voglia ancora di parlarne, chissà se magari un giorno cercherò di farvi un video su questa questione della parola calore che è un po' mista qua, ma mica solo a me, un po' ai fisici in generale. Dai va bene, vi lascio andare e ci vediamo a un prossimo video sempre qua su Zero G, vi aspetto. Grazie. 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 Grazie.